Entra nel vivo la stagione degli eventi a Grosio. Dopo i primi appuntamenti di giugno e luglio, il comune valtelinese ospiterà manifestazioni musicali, artistiche e sportive adatte a tutte le età. Qualche evento è già stato fatto, ma da qui alla fine di ottobre il calendario si divide con vari appuntamenti dedicati ai bambini, soprattutto nei mercoledì di luglio e il primo mercoledì di agosto, degli appuntamenti culturali dove andremo a toccare alcuni festival famosi in Valtellina come le altre note e le Alpi Sonanti. Poi ci saranno degli eventi enogastronomici e musicali organizzati in collaborazione con i commercianti, la Proloco e l'amministrazione comunale. Saranno effettuati in concomitanza e in prossimità dagli esercizi del paese. Un altro appuntamento che sottolineo sarà a metà settembre la Mille per Mille che ha scopo benefico, che arriva al suo nono anno di svolgimento. E a metà ottobre la prima edizione degli Amici del Folclore che verrà organizzato dal gruppo folcloristico che è qua presente, in ricordo anche della presidente scomparsa l'anno scorso. Un po' di appuntamenti per tutti, dai più grandi ai più piccoli, musicali e culturali per rendere un po' l'estate viva e rallegrare un po' il paese. E dare un'offerta turistica e non solo a cittadini e dei turisti che vengono da fare.